Ciao, benvenuti a questo video un po' particolare di Justin Apple, io sono Justin, mi trovate su Twitter come Justin Rosati, sentirete anche la mia voce non propriamente come al solito con un audio magnifico, ma volevo mostrarvi che il MacBook Air più fino di così non può esistere semplicemente perché, vado ad accendere la luce che ho dietro, come vedete già il simbolo della mela passa sullo schermo, incredibile, vi assicuro che è spenta, anzi così è acceso e così è spenta. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Justin Apple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione. Ciao! Grazie a tutti.